Allora, domanda abbastanza semplice, al di fuori del fattore estetico, che è un prodotto molto bello e quindi realizzato con delle linee molto piacevoli anche alla vista, è molto comodo per l'utilizzo che serve a me. Quasi tutti i lettini su cui si lavora spesso hanno le basi che danno fastidio al terapista quando si avvicina, perché sbatte con i piedi su piantoni di appoggio. Il fatto di avere il pianale scavato permette quindi di essere molto facile per l'approccio manuale e per lavorarci sopra, in più su tutti e quattro i lati della struttura ha la capacità di regolare in altezza il lettino, quindi non bisogna ogni volta starsi a spostare per andare a cercare i pianali di appoggio o di alzata del lettino. Altro motivo, ho lavorato con pazienti sovrappeso, anche di 180 kg, il lettino non ha mai avuto problemi, non scricchiola, non si sentono cicoli e rimane sempre comunque sia una struttura molto stabile, quindi per il lavoro che ho fatto io è veramente consigliato. Allora sono quattro, sono due N-Run di cui uno L che sarebbe a doppia sezione e due N-Go W che sono un pochettino più piccoli e si abbassano un po' di più. Io mi sono personalmente scelto questo per il motivo che ho detto precedentemente, ovvero sia che non ha il pianale a terra e quindi mi permette di lavorare un po' più comodamente sul paziente.